È arrivato quel momento dell'anno tanto atteso, il Black Friday e per noi runners è una grandissima opportunità per comprare tutti quei prodotti che ci potrebbero servire durante l'anno a prezzi scontati In questo video cerchiamo di aiutarvi nella scelta a trovare i prodotti giusti vi parlerò dei prodotti che ho e che oggi sono scontati o prodotti che anche io andrò a comprare con questo Black Friday Mettetevi comodi che iniziamo subito Inizio a spiegarvi un po' come andiamo a strutturare questo video Prima cosa ho creato un Google Sheets esattamente come ho fatto anche l'altra volta che vi metto il link qua sotto così potete andare a vedere dove ci sono tutti i prodotti di cui parleremo oggi con i link diretti alla pagina con lo sconto Per alcuni di questi prodotti abbiamo degli sconti aggiuntivi perché link affiliati o partner riesco a correre quindi ci saranno sconti ulteriori rispetto a quelli del Black Friday Ed è inutile dire che tanti di questi link non tutti in realtà ma la maggior parte sono link affiliati quindi se acquistate attraverso questi link aiutate anche il canale Altra nota e soprattutto consiglio personale è vero è Black Friday sicuramente è una giornata molto consumistica però stiamo attenti a comprare effettivamente cose che ci servono durante l'anno e non tanto comprare per comprare Iniziamo con la categoria delle scarpe da running Sicuramente quella più importante per noi runners sono probabilmente la voce di costo più alta nel nostro budget Le scarpe da running purtroppo continuano ad aumentare di costi soprattutto perché la tecnologia avanza ma anche perché sono sempre di più i runners quindi la domanda cresce quindi è fondamentale sfruttare sconti, offerte e giornate come quella del Black Friday per comprare tutti i prodotti di cui abbiamo bisogno Il primo sito che vi vado a indicare è topforrunning.it link sotto in descrizione che sta facendo degli sconti estremamente importanti su tantissime linee di prodotto tantissimi brand tra cui scarpe molto popolari che anche io ho ricensito su questo canale e che assolutamente comprerei in questo momento sconti che arrivano fino al 30% e attenzione avete anche uno sconto ulteriore con il codice coupon code ESCO A CORRERE TUTTO ATTACCATO quindi potete arrivare a sconti addirittura fino al 35% che è una cosa pazzesca Per farvi un esempio le Adidas Adio Zero Pro 3 ovvero una delle scarpe più veloci in questo momento al mondo è scontatissima la potete trovare a 207 euro con un 20% di sconto più un ulteriore 5% di sconto ma come questo prodotto ce ne sono davvero tanti da ASICS, Puma, Nike insomma su questo sito trovate di tutto e tra l'altro non solo scarpe rimanendo sempre nella categoria delle scarpe vi consiglio anche di andare a vedere il sito ufficiale di Nike.com Italia all'interno abbiamo grandissime promozioni per esempio si trovano le Pegasus al 40% di sconto così come tantissimi altri prodotti scarpe e abbigliamento per runners con sconti davvero importanti qui purtroppo non abbiamo coupon code ma se utilizzate il link all'interno del nostro Google Sheets come sempre ci aiutate con il canale altro sito che vi consiglio per le scarpe è quello di Maxi Sport pensate qua ci sono sconti fino al 50% anche la loro gamma è molto ampia ci sono un po' tutti i brand quindi potete trovare scarpe da running estremamente scontate per farvi un esempio le ASICS Cumulus sono al 40% di sconto prezzo mai visto ma troviamo anche le Nike anche in questo caso per esempio le Pegasus 39 che è la scarpa da running più venduta al mondo fortemente scontata 30% di sconto la portate a casa con 79 euro quindi assolutamente andate sul sito di Maxi Sport perché veramente ci sono un sacco di offerte un altro prodotto per me indispensabile dopo la scarpa sono ovviamente le calze da running io di solito le compro quasi tutte su Amazon perché soprattutto nel periodo di Prime Day, Black Friday eccetera eccetera si trovano degli sconti estremamente importanti si trova veramente di tutto brand noti e meno noti alcuni li sto testando vi farò poi un video dedicato proprio su questo ma se andate nel file appunto qua sotto troverete tutta la lista delle calze da running che io ho già testato potete chiedere a mia moglie ho i cassetti pieni e vi vado ad indicare solo quelle che effettivamente mi hanno soddisfatto prezzi davvero competitivi e appunto in questo Black Friday ci sono sconti fino al 40% su questa tipologia di prodotti un'altra categoria importante è quella del portacellulare o marsupio chiamatelo come volete perché come sapete ci ho fatto anche un video a riguardo per me è molto importante correre in sicurezza portandosi il cellulare con sé ovviamente in caso di emergenza ma anche per ascoltare musica, podcast eccetera eccetera sempre su Amazon vi ho fatto una lista sempre in questo file con un paio di offerte estremamente interessanti oggi potete comprare un portacellulare scontato a 9€ uno di quelli che si mettono qua sul braccio oppure come preferisco io i marsupietti, quelli che si utilizzano proprio come banda questi ovviamente costano un po' di più ma si possono trovare proprio in questo periodo di Black Friday estremamente scontati fino al 30% di sconto sempre come accessori è fondamentale parlare delle veste da idratazione ovvero i cosiddetti zainetti da runners quelli zainetti che mi vedete utilizzare sempre quando sono qua a Londra che devo fare i lunghi per portarmi dietro l'acqua, il ricambio eccetera eccetera zainetti ovviamente utili anche per chi fa ultramaratone per chi fa corse in montagna insomma è un elemento indispensabile io prima non correvo mai con lo zainetto anche quando preparavo gare su strada da quando lo utilizzo mi ha cambiato veramente la vita perché posso portarmi dietro tutti i liquidi, gel, cellulare c'è un'offerta clamorosa su Amazon per una delle veste che io posseggo quella della Salomon che vedete nella maggior parte dei miei video pensate oggi la potete comprare a 58 euro sconto di oltre il 30% io l'ho pagata molto di più quindi affrettatevi se siete alla ricerca di una veste di questo genere sempre sul sito di top4running.it c'è uno sconto speciale sempre per una veste Salomon molto simile però brandizzata Golden Treo Series quindi a edizione limitata sconto per il Black Friday più 5% con il coupon code esco a corre vi metto sempre il link se volete darci un occhio arriviamo così nella categoria dell'abbigliamento fondamentale soprattutto visto che stiamo entrando nei mesi più freddi quindi bisogna vestirsi bene i materiali tecnici sono fondamentali alcuni dei prodotti che amo di più in assoluto sono del brand Ex Bionics che fanno materiali estremamente tecnici perfetti soprattutto per l'inverno ecco c'è una delle magliette che io posseggo e che ho amato e continuo ad amare oggi è in forte sconto lo trovate su Amazon sempre nel nostro file troverete il link un altro brand che amo per l'abbigliamento da running è Decathlon perché fanno prodotti di qualità a prezzi estremamente onesti beh, questo Black Friday i prezzi sono ancora più bassi ci sono sconti fino al 40% tra cui anche una giacca che ho visto che probabilmente comprerò invernale fatta apposta per noi runners estremamente tecnica piena di dettagli che non vedo l'ora di provare anche perché qua a Londra le temperature si sono abbassate tanto e bisogna correre ben protetti arriviamo alla categoria accessori da runners un accessorio fondamentale in questo periodo dell'anno dove le giornate sono estremamente corte e purtroppo le ore di luce sono ridotte sono le frontali assolutamente importantissime per correre in sicurezza vi ho messo anche qua all'interno del nostro file una serie di link di frontali che ho utilizzato ho testato già per voi ovviamente tutti i prodotti scontati durante il Black Friday arriviamo alla categoria degli orologi da running categoria estremamente importante probabilmente una delle più popolata nel nostro file perché veramente si trova di tutto c'è il Fenix 6 Pro il Fenix 6 Pro Solar i vari Garmin dal 945 al 955 al 910 insomma quasi tutti i modelli si possono trovare oggi con almeno 20% di sconto a parte quelli appena usciti che chiaramente sono difficilmente trovabili scontati un esempio vi ho trovato un Fenix Pro 6 praticamente uno dei modelli più importanti in casa Garmin appena 379 euro questo sciva di listino a 600 euro oppure se siete per esempio amanti del Polar c'è il Polar Grit X a 395 euro anche qua sconto davvero importante per quanto riguarda invece gli auricolari se vi ricordate un po' di tempo fa ho fatto la recensione di questo prodotto gli auricolari a conduzione ossea di un brand che si chiama Hilo che sta facendo veramente prodotti estremamente interessanti beh questo prodotto che purtroppo non era in sconto quando abbiamo fatto l'ultimo video di Prime Day questa volta per il Black Friday è tornato a disposizione scontato lo trovate infatti a 92,99 anziché 109,99 l'ho acquistato ormai un po' di tempo fa non ho mai avuto un problema ci ho corso con tantissima acqua con tantissima umidità ci ho addirittura fatto un test all'interno della doccia è estremamente impermeabile e non ha perso per nulla la qualità se invece siete alla ricerca di cuffie percorre tradizionali ovvero quelle normali che si inseriscono in orecchio vi ho messo dei link di alcuni prodotti cinesi che ho utilizzato in passato che costano davvero poco con 39 euro a volte anche un po' meno soprattutto durante il Black Friday trovate dei prodotti interessanti sono quelli che ho linkato prodotti che ho posseduto e ho testato per voi tenete in considerazione che questi sono prodotti che mediamente durano un anno dopo un anno iniziano a dar problemi o non si caricano più o non si accendono più insomma smettono di funzionare però per 39 euro sono prodotti che fanno assolutamente il lavoro per cui sono stati disegnati se invece volete andare su un prodotto affidabile vi consiglio il brand Jabra ne ho tre a casa di questi auricolari sono quelli che si inseriscono direttamente all'interno dell'orecchio beh per questo Black Friday stanno facendo promozioni importanti anche qua fino a 30% di sconto si possono trovare auricolari a 79 euro e con una certa garanzia di durata infatti uno in particolare di questi prodotti li utilizzo ancora oggi in palestra quando non sono fuori a correre appunto quelli con la conduzione ossea sono assolutamente un'ottima alternativa ovviamente di una qualità maggiore rispetto ai prodotti cinesi che trovate a 30 euro nel file vi ho messo anche la categoria delle telecamere da running le action camera come si chiamano che possono essere utili per chi magari vuole documentare la propria maratona o documentare le proprie avventure nel file troverete tutte le camere di insta go insta 360 tutte le telecamere che utilizzo io quando vedete fare i miei video in movimento sono fortemente scontate per questo black friday nel sito ufficiale troverete il link con disconti dedicati categoria gel e recovery drink secondo me un ottimo momento questo per risparmiare su quei prodotti consumabili indispensabili i gel soprattutto per chi fa lunghe distanze voi sapete che io amo i prodotti di SIS sport in science stanno facendo una promozione proprio per questo black friday diversi gusti a disposizione vi metto il link in descrizione così come altri prodotti che utilizzo o ho utilizzato in passato altra cosa importante per quanto riguarda gli integratori energy drink quelli della enervit per esempio l'r2 probabilmente uno dei prodotti più popolari per runners e ciclisti per il recupero o anche da utilizzare durante gli allenamenti oggi è in forte sconto proprio per il black friday per quanto riguarda gli integratori e l'alimentazione io vi consiglio di andare sul sito di foodspring punto it perché lì c'è una promozione molto forte proprio per questo black friday io utilizzo e compro prodotti di foodspring da ormai un paio d'anni con estrema soddisfazione sapete bene foodspring fa un po' di tutto da snack proteici naturali alle golosissime creme spalmabili questa qui è la mia preferita è quella al cocco proteica senza zucchero o comunque bassa quantità di zuccheri così come gli integratori io utilizzo per esempio gli omega 3 di foodspring che sono ottimi gli integratori per il recupero muscolare amminoacidi trovate veramente di tutto e foodspring sta facendo solo per questo black friday degli sconti molto molto importanti quindi andate a vedere e provate a utilizzare anche il coice sconto esco a correre tutto attaccato e sui prodotti che non sono scontati per il black friday avete un 15% ulteriore e per concludere questa categoria l'aerofit se vi ricordate chi l'aveva visto quel video ci avevo fatto una recensione di questo prodotto è praticamente uno strumento che ti permette di lavorare sulla tua capacità polmonare esercitarla tutti i giorni attraverso questo strumento e un'app dedicata beh aerofit ha uno sconto proprio in questo periodo di black friday andate sul sito per vedere appunto di cosa si tratta ma è uno sconto importante che dura solo nel periodo di black friday vi metto sempre il link a disposizione e tra l'altro loro mi hanno mandato la seconda versione del loro prodotto sto facendo l'unboxing qua con voi per la prima volta perché non l'ho aperto proprio per farvelo vedere questa è la versione 2 dello stesso strumento che utilizzo io il colore è bianco ho cambiato un pochettino e dicono che sia migliorato molto a livello proprio di sensibilità e di dati che va a passare all'app lo utilizzerò per voi comunque molti mi avete chiesto come mi sto trovando con la versione rossa questa qua per intenderci io la sto utilizzando e sto veramente trovando dei benefici quindi provate ad andare sul sito e vedere se fa per voi e soprattutto se volete comprarlo fatelo ora perché ci sono appunto gli sconti del Black Friday io penso di avervi detto tutto vi ricordo appunto che trovate nel file i vari link se ci sono degli aggiornamenti lo farò in tempo reale se trovo cose in questi giorni anche perché alcune aziende non hanno comunicato lo comunicheranno solo a partire da mezzanotte di oggi appunto quando inizia ufficialmente il Black Friday quindi aggiornerò questo file proprio durante la giornata di domani quindi voi continuate a guardarlo perché proviamo a trovare per voi le migliori offerte fatemi sapere che cosa comprerete voi in questo Black Friday mi raccomando scrivetelo qua nei commenti anche per ispirare gli altri se avete voi delle chicche se avete trovato cose particolari sconti forti eccetera così ci aiutiamo un pochettino a risparmiare detto questo amici mettete un like a questo video se vi è piaciuto un video un po' diverso rispetto al solito e soprattutto correte e fate l'amore ciao belli iscriviti